Però se l'anno scorso, il 2 dicembre, i positivi erano 26.290, oggi sono 16.000, ci sarà una ragione? Se i morti erano 725 ed oggi, 2 dicembre 2021, sono 100, ci sarà una ragione? No, vi dovete rispondere. Forse è il vaccino che tanto vi fa schifo. Ma come si permette lei di usare queste espressioni? Ma la vuole smettere. No, lei fa solo terrore. Come si permette di usare queste parole? A parte che io l'ho già detto e non ho nessun problema a dirle che sono consapevolmente non vaccinata. E perché non è vaccinata? Perché sono arrabbiata per il Green Pass. L'ha capito? Ma su, è una scusa. Io posso dire la verità? Cosa penso io? No, lei deve far finire di parlare prima di fatto. Perché lei offende. No, uno per volta, uno per volta. Lei faccia finire di parlare. Lei faccia finire di parlare. Prende i soldi, prende i soldi, quegli ingienisti prendono i soldi. E a volte la sensazione, dottoressa, che lei abbia bisogno di un diritto di tribuna. Diciamoci la verità. Ancora? E' una cosa che ha fatto questa partita. Allora, posso dire...